In Napoli continuano gli allenamenti in vista della gara di domani sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia, una gara importante per gli uomini di Luciano Spalletti che vogliono continuare il proprio ruolino di marcia, migliorando sempre di più le proprie performance. A Castelvolturno la squadra azzurra continua la preparazione, Raspadori si è fermato per un problema muscolare, la sua presenza per la prossima gara è in forte dubbio, come anche per la gara di Champions a Francoforte. Oggi verranno svolti tutti gli esami per comprendere l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Intanto, tornando sugli allenamenti, Napoli ieri si è concentrato su un lavoro di attivazione muscolare, successivamente il gruppo ha svolto una serie di partitine a campo ridotto e di seguito il circuito di forza. In sostanza, nulla di nuovo, ma classico programma di Luciano Spalletti. Contro il Sassuolo non dovrebbero esserci stravolgimenti di formazione con il tecnico che vorrà schierare la migliore formazione possibile anche in ottica Champions. Sicuramente, da come si metterà la gara di domani, verrà valutato anche un turnover in corso d'opera per non spremere i calciatori migliori in vista del turno europeo. Fatto sta che questa stagione sta portando un entusiasmo generale nel capoluogo campano che non si registrava da anni. Ieri, la prevendita per il match casalingo di Champions contro il Francoforte, prevista per il 15 marzo, ha vista la vendita di 40.000 tagliandi in meno di 6 ore. Ovviamente, non sono mancati problemi in fase di vendita, con lunghe cote online e problemi relativi al server. Si immagina il tutto esaurito già nella giornata di oggi, con i soli tagliandi disponibili per alcune tribune. Grazie a tutti.